La figura di Licio Gelli è tra le più singolari e inquietanti del dopoguerra. Farò una domanda, chi è Licio Gelli? Uomo nero della storia della Repubblica italiana. Gelli secondo me era un mediatore, un protettore e comunque era una spia chiaramente. È riuscito ad accumulare una grande ricchezza, potere, amicizie molto solidali. Loggia P2, interamente nelle sue mani e a sua esclusiva disponibilità. Mi fece cenno alle relazioni, agli amici, all'influenza. Mi disse che avevano una grande influenza sul Corriere della Sera. Un coinvolgimento significativo di uomini della Loggia nel golpe borghese. Io sono nato sotto il fascismo, ho studiato col fascismo, ho combattuto per il fascismo. Sono un fascista e morirò fascista.